Buonasera, bentornati sul nostro canale YouTube. Oggi parliamo di colonnine e ne parliamo con Phoenix Contact, che è forse il produttore leader in Europa per tutto quello che c'è in una colonnina e attorno a una colonnina. In questo caso con un particolare focus su cavi e connettori. E' con noi l'e-mobility manager di Phoenix Contact in Italia, Mauro Sartor, al quale io darò la parola tra due secondi. Prima però vi ricordo che potrete presentare delle domande, dei quesiti a Sartor, schiacciando il tasto domande e risposte. Quindi domande scritte perché noi comunque le registriamo e vi rispondiamo per iscritto se non avessimo tempo sufficiente in questa ora di webinar per rispondervi a voce. A questo punto a te la parola, Mauro. Grazie Massimo, buonasera a tutti anche da parte mia e grazie agli amici di Vai Elettrico che ci sopportano e ci sostengono sempre in queste attività. Partirei subito condividendo la presentazione che abbiamo preparato per il webinar di questa sera. Prima di partire vorrevo dare qualche ulteriore informazione in merito all'azienda promettendovi di non portarvi via troppo tempo. Innanzitutto io mi occupo di mobilità elettrica dal 2012 e all'interno della filiale italiana faccio parte di un team di quattro persone che si preoccupano di promuovere le soluzioni, prodotti e mobility di Phoenix Contact qui in Italia. Qualche informazione anche in merito a chi è Phoenix Contact ovviamente. è una società multinazionale tedesca che ha la propria sede nel suo quartiere generale in Germania a Blomberg che è quello che vedete nella foto aerea della slide. È una società, un gruppo in realtà che ha festeggiato lo scorso anno il suo centenario e che ha oltre 21.000 dipendenti nel mondo con un fatturato consolidato di circa 3,4 miliardi di euro. All'interno del gruppo e-mobility ci sono diverse società tra cui la Phoenix Contact e Mobility GmbH che è un'azienda che è stata fondata nel 2013 ed è focalizzata nello sviluppo e nella produzione di componenti per la mobilità elettrica. Oggi questa azienda, benché relativamente giovane all'interno del gruppo, ha già oltre 1.000 dipendenti sparsi nelle tre filiali principali e consta di un fatturato di oltre 200 milioni di euro con dei centri di competenza, oltre che quello principale in Germania, anche in Nord America e Cina che sono i mercati principali per la mobilità elettrica. Con il brand Charks dicevo, consideriamo tutti quei prodotti che come diceva giustamente Massimo prima possiamo trovare all'interno di un veicolo, prese veicolo nella fattispecie o di una stazione di ricarica. Nell'immagine che stiamo condividendo è possibile apprezzarne giusto alcuni a titolo esplicativo. Il vantaggio fondamentale di Phoenix Contact è quello di poter fare una proposta ai propri clienti che considera non solo i prodotti legati alla mobilità elettrica, ma una proposta completa in sinergia con i prodotti anche della casa madre per permettere ai nostri clienti di ottimizzare il numero di fornitori e quindi massimizzare l'efficienza. Dopo questa breve introduzione passerei direttamente all'argomento principale di quest'oggi. Probabilmente molti di voi o siedono o utilizzano un veicolo elettrico ed hanno avuto modo di vedere o utilizzare dei cavi di ricarica HPC raffreddati a liquido presenti nelle stazioni fast installate in autostrada o in altri ambiti pubblici. Magari avete anche avuto modo di apprezzarne le prestazioni e l'efficienza, ma probabilmente non è detto che siate consapevoli o siate a conoscenza di tutto ciò che ci sta dietro. Per questa ragione abbiamo pensato che un webinar dedicato ai cavi di ricarica raffreddati a liquido potesse essere interessante. Abbiamo approntato questo webinar come una serie di domande a cui cercherò di dare ovviamente le risposte. Poi nel caso ci siano altre domande, come diceva giustamente Massimo prima, le potete tranquillamente scrivere in chat e cercheremo di rispondere nel tempo rimanente alla fine del webinar. Grazie. Iniziamo con la domanda più logica. Perché serve raffreddare un cavo di ricarica? Prima di rispondere a questa domanda è necessaria una doverosa premessa. Allora, gli utilizzatori di veicoli elettrici vengono spesso dipinti come persone molto ansiose. ansiose nel senso che hanno da un lato la range anxiety, cioè la paura che l'energia presente nella batteria del veicolo non sia mai sufficiente, e dall'altra parte hanno la time anxiety, cioè la paura di dover impiegare troppo tempo per ricaricare la batteria, soprattutto nei viaggi lungo raggio. Se ci pensate queste due cose sono contrastanti, contrastanti nel senso che per aumentare il range dei veicoli devo aumentare la capacità di carica delle batterie, ma questo a parità di potenza di ricarica comporterebbe un allungamento dei tempi. Per ridurre i tempi di ricarica a parità di pacco batterie, devo comunque aumentare la potenza trasferita. Quindi di fatto la soluzione che mette d'accordo queste due necessità è proprio la ricarica HPC con i cavi raffreddati a liquido. Ma aumentare la potenza di ricarica non è così semplice, anche perché poi bisogna fare i conti con ciò che stabilisce la normativa, in particolare la ISI 6296 e mi riferisco in particolare al secondo punto che vedete nella slide. Questo perché? Perché lo standard internazionale prevede che non ci possa essere un delta superiore a 50 gradi Kelvin tra la temperatura ambiente e la temperatura dei contatti all'interno dei connettori. Se consideriamo per esempio che la temperatura ambiente massima prevista dallo standard, che è poi quella che viene utilizzata quando vengono sottoposti ai test di validazione i connettori, è 40 gradi, capiamo bene che la soglia massima ammissibile per questi cavi di ricarica è 90 gradi. Ma ancora non abbiamo risposto alla domanda. Perché serve raffreddare un cavo di ricarica? Facciamo un esempio pratico. Per poter gestire una ricarica in corrente continua di 200 A, in modo continuativo abbiamo bisogno di utilizzare normalmente un cavo in rame con dei conduttori DC da circa 50 mm quadri. Questo quantomeno era lo stato dell'arte fino a pochi anni fa. Tuttavia l'aumento delle capacità di carica dei pacchi batteria unito allo sviluppo delle chimiche hanno fatto sì che il valore di corrente gestibile in un processo di ricarica aumentasse sensibilmente, fino per esempio a 500 A. Ma per poter gestire queste correnti in modo continuativo utilizzando dei cavi tradizionali, avremmo bisogno di conduttori DC con sezioni cabrabili dell'ordine dei 150 mm quadri, se non superiori. Capite bene che un cavo di queste dimensioni sarebbe ingestibile, troppo grosso, troppo pesante. Per questa ragione è stata introdotta la tecnologia di raffreddamento a liquido dei cavi che permette di ridurre sensibilmente la sezione cabrabili dei cavi, orientativamente paragonabile a un attuale cavo da 200 A, più o meno, forse leggermente più grande ma non tanto, senza però penalizzare le prestazioni richieste. Altra domanda, oltre al cavo HPC è necessario raffreddare anche la presa a veicolo? Inizio già a spoilerarvi la risposta che è no. No, perché il cavo HPC è stato pensato per poter gestire ricarica in modo continuativo durante tutto l'arco della giornata, mentre la presa a veicolo, dopo aver completato la ricarica, benché termicamente sollecitato, ovviamente ha tutto il tempo per raffreddarsi prima di dover caricare nuovamente. Però ovviamente tanto più la temperatura ambiente sarà elevata, tanto prima il veicolo andrà in di rating, limitando la corrente richiesta per non superare quel famoso limite dei 90 gradi che abbiamo visto prima. Entriamo ora nel vivo delle domande relative proprio al sistema. Da cosa è composto un sistema di ricarica con raffreddamento a liquido? Un sistema di ricarica con raffreddamento a liquido è composto principalmente da quattro parti. Il cavo di ricarica, che abbiamo identificato nella figura a lato come il numero 1. L'interfaccia di connessione, identificata con il numero 2. Ecco, tengo a precisare che questo è un esempio di possibile interfaccia di connessione ma in funzione della tecnologia che si andrà a scegliere, ce ne possono essere anche altri differenti. C'è ovviamente un'unità di raffreddamento e altrettanto ovviamente c'è il liquido refrigerante. Quello che potete vedere nella slide che stiamo proiettando è uno schema a blocchi delle parti principali di una stazione di ricarica in DC che utilizza un cavo raffreddato a liquido. All'interno della stazione il cavo HPC ha differenti diramazioni e nella fattispecie la parte idraulica, quella che vedete delineata in azzurro, va a connettersi all'unità di raffreddamento. La parte di potenza va connessa all'uscita dei convertitori, ma in realtà più precisamente ai fusibili e ai contatori DC che gestiscono l'erogazione dell'energia. C'è poi un'altra parte che è una parte di segnale che solitamente viene connessa a un controllore mobility e che permette poi la comunicazione con il veicolo. Vediamo un po' più nel dettaglio come si articolano le parti che abbiamo visto prima. Quindi liquido refrigerante può essere un mix per esempio di acqua e glicole oppure un olio siliconico oppure un olio sintetico. Le unità di raffreddamento invece possono essere passive o attive. Quelle attive vengono anche chiamate chiller. Mentre la tecnologia che caratterizza il cavo di ricarica invece può essere considerata come raffreddamento diretto piuttosto che raffreddamento indiretto. E poi vedremo un po' più nel dettaglio tutte queste tre parti. In questa slide ho cercato di indicare le possibili combinazioni teoriche di queste parti considerando inoltre anche il tipo di tecnologia di raffreddamento dei contatti all'interno del connettore. Successivamente avremo modo di vedere che alcune di esse sono difficilmente applicabili. Ora iniziamo a entrare un po' nel merito di ogni singola parte. Quali sono le principali differenze tra l'unità di raffreddamento attiva e quella passiva? Le unità di raffreddamento attive sono sostanzialmente dei condizionatori che raffreddano un liquido che circola in un circuito separato. Infatti se vedete lo schema che stiamo proiettando nella parte sinistra dello schema abbiamo di fatto il circuito che è presente nei condizionatori e anche quelli tipo domestico per intenderci. Nella parte centrale c'è un heat exchanger che di fatto utilizza il liquido refrigerante all'interno del condizionatore per raffreddare il liquido refrigerante che invece deve raffreddare il cavo di ricarica. La loro caratteristica principale è che è possibile con l'utilizzo di un chiller far scendere la temperatura del liquido refrigerante al di sotto della temperatura ambiente. Di solito in questi chiller è possibile andare a impostare la temperatura di flow in, si chiama desiderata. Per quella che è la nostra esperienza, questo tipo di unità di raffreddamento non vengono quasi mai utilizzate perché sono più ingombranti, soprattutto rispetto a quelle passive, sono più complesse e poi vedremo anche perché, ma soprattutto sono circa due o tre volte più costose rispetto a un'unità di raffreddamento passiva. È chiaro però che le unità di raffreddamento attive possono trovare impiego in alcune applicazioni particolari o in alcuni luoghi particolari soprattutto, dove sappiamo già in partenza che la temperatura ambiente è tipicamente molto elevata e che quindi una unità di raffreddamento passiva sarebbe assolutamente inefficace. Passiamo ora ad analizzare un pochettino più in dettaglio l'unità passiva. Si tratta in sintesi di un dispositivo composto principalmente da tre parti. Un serbatoio, dove all'interno c'è il liquido refrigerante, una pompa collegata al serbatoio che permette di mandare in circolo il liquido refrigerante e un radiatore con delle ventole che permettono di effettuare lo scambio termico, quindi il raffreddamento del liquido. La caratteristica fondamentale dell'unità di raffreddamento passive è che il loro potere refrigerante è commisurato alla temperatura ambiente. Questo in teoria. In pratica sappiamo che riescono ad abbassare la temperatura del liquido refrigerante al pari della temperatura interna della stazione di ricarica in cui sono installate. Quindi tendenzialmente se la stazione per esempio è esposta in raggiamento solare probabilmente la temperatura del liquido refrigerante sarà un pochettino più alta. In generale si tratta di dispositivi relativamente compatti, sicuramente più compatti di un chiller, più semplici da gestire ma sicuramente più convenienti. Ma le unità di raffreddamento passive non sono tutte uguali. Solitamente differiscono in base al tipo di liquido refrigerante utilizzato e alla loro potenza. Una cooling unit progettata per l'olio difficilmente può essere impiegata con acqua e glicole e viceversa. Questo per via del differente comportamento chimico e fisico delle due sostanze. In particolare le unità di raffreddamento per acqua e glicole hanno una pompa più compatta e di minore potenza perché ovviamente non devono vincere una viscosità elevata perché l'acqua ovviamente ha una viscosità bassissima. Utilizzano raccordi e guarnizioni di tipo idraulico e hanno un circuito semi chiuso con la possibilità di rabboccare il refrigerante nel momento del bisogno. Quindi senza fare particolari attività di manutenzione che invece sono classiche delle unità di raffreddamento per l'olio. Mentre quelle per l'olio, come dicevamo, richiedono una pompa di potenza maggiorata perché deve vincere la viscosità dell'olio soprattutto nel periodo invernale quando la temperatura è molto bassa. Sono dotate di guarnizioni e raccordi specifici per l'olio dinamica hanno un circuito chiuso con la necessità di creare il vuoto per ovviare a un problema che è quello dell'igroscopicità dell'olio cioè l'olio tende a attirare le particelle d'aria contenenti umidità e a lungo andare questo effetto fa perdere la caratteristica di isolante. Quindi tornando alle possibili combinazioni che abbiamo visto prima le unità di raffreddamento attive abbiamo visto non vengono quasi mai utilizzate soprattutto per problemi di costo. Tra le restanti opzioni alcune non offrono poi benefici particolarmente rilevanti in particolare l'abbinamento tra acqua agricole, cooling unit passiva e tecnologia di raffreddamento del cavo dei contatti diretto presenta proprio alcuni svantaggi e cioè se come acqua all'interno del liquido refrigerante consideriamo dell'acqua mineralizzata quindi l'acqua tradizionale che non ha un elevato potere isolante anzi è necessario per questa tipologia di applicazione prevedere due differenti circuiti di raffreddamento e due unità di raffreddamento separate se d'altro canto si dovesse utilizzare acqua demineralizzata è necessario prevedere la sostituzione del liquido refrigerante abbastanza spesso a causa di un fenomeno chiamato migrazione elettrochimica adesso senza entrare troppo nel merito di questo fenomeno vi posso dire che è un fenomeno che fa sì che le particelle metalliche di rame di un polo del connettore DC tendano a migrare attraverso il refrigerante andando verso il polo opposto attratte ovviamente dalla polarizzazione elettrica che si viene a creare tra i due questo fenomeno chiaramente contribuisce a ridurre la resistenza di isolamento tra i due poli con il rischio di poter avere anche dei cortocircuiti proprio per questo è necessario sostituire di frequente il liquido refrigerante abbiamo visto le cooling unit vediamo ora che differenze ci sono tra i liquidi refrigeranti per classificare i principali liquidi refrigeranti utilizzati abbiamo considerato alcuni tra i parametri più significativi per leggere correttamente la tabella dovete considerare che i segni più indicano un vantaggio che è tanto più elevato quanto è più alto il numero dei segni più presenti ad esempio per quanto riguarda il mix di acqua e glicole abbiamo considerato l'acqua tradizionale piuttosto che l'acqua demineralizzata e la cosa che salta subito all'occhio è che la prima ha un potere scarsamente isolante dal punto di vista elettrico mentre la seconda invece ha un potere isolante molto più elevato per contro come abbiamo visto prima la durata del refrigerante è decisamente inferiore per quanto riguarda l'acqua demineralizzata così come anche il prezzo per quanto riguarda gli oli diciamo che oltre ad avere un ottimo isolamento elettrico presentano alcuni vantaggi rispetto alle soluzioni basate su acqua e glicole soprattutto l'olio sintetico addirittura ha uno svantaggio abbastanza importante legato al costo altra informazione da trasferire è che per normativa tutte le sostanze utilizzate come liquido refrigerante devono superare i test di biodegradabilità definiti dalla Organization for Economic Cooperation and Development nello specifico con un risultato superiore risultato di biodegradabilità superiore all'80% la scelta del tipo di liquido refrigerante influenza anche il circuito idraulico che deve essere utilizzato come abbiamo visto normalmente ci sono tre tipi di circuiti idraulici il circuito aperto, semi chiuso e chiuso l'acqua e glicole possono essere utilizzati in un circuito semi chiuso equivalente a quello del circuito del radiatore di un'automobile tradizionale quindi tecnologia tendenzialmente consolidata, ben conosciuta e collaudata l'olio invece come abbiamo visto prima a causa dell'igroscopicità necessita di un circuito chiuso e della necessità di creare il vuoto per non essere contaminato dalle particelle d'aria contenenti umidità vediamo ora quali sono i pro e contro delle due tipologie l'acqua e glicole, circuito semi chiuso, raffreddamento indiretto l'acqua e glicole ovviamente è un fluido economico ecologico, facilmente reperibile e soprattutto proprio perché viene utilizzato già nelle autovetture già un po' sdoganato nel senso che viene accettato molto facilmente i componenti della calling unit sono più semplici, più economici e conseguentemente garantiscono anche una maggiore affidabilità nel tempo la messa in servizio è più rapida così come è più semplice la manutenzione come contro ovviamente abbiamo il fatto che essendo un raffreddamento indiretto c'è un minore trasferimento di calore per quanto riguarda invece l'olio sintetico siliconico comunque raffreddamento diretto in circuito chiuso abbiamo visto prima che i fluidi sono molto costosi più costosi ovviamente dell'acqua e glicole vengono considerati meno ecologici utilizzano componenti della cooling unit più complessi con per esempio la pompa dell'unità di raffreddamento potenziate quindi anche alla fine più costosi necessitano di una messa in servizio più lunga e una manutenzione più complessa come pro hanno ovviamente il miglior trasferimento di calore abbiamo visto le differenti tipologie di liquido refrigerante prima abbiamo parlato dell'unità di raffreddamento e ora non ci resta che approfondire anche la parte relativa ai cavi di ricarica analizzando le differenze tra raffreddamento diretto e indiretto per il raffreddamento diretto si intende che il liquido refrigerante è in diretto contatto con le parti elettriche in questo caso ci sono differenti soluzioni costruttive per i cavi raffreddati a liquido in linea generale hanno tutte una o più mandate da cui il refrigerante entra e una o più ritorni da cui il refrigerante esce ho cercato, non so se sarà visibile ma ho cercato di evidenziare con il simbolo del ghiaccio la parte dove normalmente c'è la mandata del liquido refrigerante in questa immagine possiamo vedere come viene realizzato un sistema di connessione di un cavo raffreddato a liquido con raffreddamento diretto in cui la mandata del refrigerante e il ritorno di fatto sono concentrici nello stesso cavo quindi diciamo l'esempio della struttura del cavo a destra tra i tre che vedete nella slide la mandata è rappresentata dal tubo centrale dove ho fatto evidenziare la freccetta il ritorno viene fatto sempre all'interno del pin e con il tubo diciamo più esterno in questo caso il rame è posto nella parte più esterna nel diametro del tubo di ritorno ed è ovviamente elettricamente collegato al pin del connettore nel raffreddamento indiretto invece il refrigerante non è mai a contatto con le parti elettriche e questo è almeno per quanto riguarda Phoenix Contact il sistema che garantisce un livello di sicurezza maggiore anche in questo caso ci possono essere differenti soluzioni costruttive e in linea generale ci sono sempre una o più mandate e una o più ritorni per il liquido refrigerante l'aspetto negativo di questa tecnologia invece è che la parte interna del connettore in particolare lo scambiatore di calore è generalmente molto più complessa rispetto a una pari soluzione con raffreddamento diretto diciamo che arrivati a questo punto molti di voi ormai si chiederanno ma come sono fatti internamente i connettori CCS raffreddati a liquido considerando le caratteristiche comuni credo di poter affermare che non c'è un connettore uguale all'altro tra quelli raffreddati a liquido questo perché spesso lo sviluppo del connettore segue quello del cavo e la tecnologia di raffreddamento che è stata scelta in generale possiamo dire che si tratta di connettori che tendenzialmente i connettori raffreddati a olio sono costruttivamente più semplici rispetto a quelli ad acqua tuttavia l'olio è più difficile da gestire sappiamo per esempio che è più semplice avere problematiche legate a delle perdite con l'olio ci sono poi differenti design in cui il connettore per esempio è dotato di un'impugnatura circolare piuttosto che di una maniglia noi siamo convinti che la maniglia sia la soluzione più sicura soprattutto per l'utilizzatore anche per evitare il rischio termico tenete conto che sono cavi che gestiscono potenze molto elevate e alla fine di un processo di ricarica potenzialmente possono essere anche abbastanza caldi considerando la presenza dei tubi dove scorre il liquido refrigerante all'interno del cavo il sistema di pressa cavo è un punto particolarmente delicato di questi cavi e deve essere gestito nel modo corretto per evitare problemi inoltre considerando i valori di corrente e di tensione che sono in grado di gestire devono essere affidabili e robusti permettetemi ora di focalizzarmi un pochettino di più sulla soluzione del cavo raffreddato a liquido di finish contact iniziamo prima di tutto ad analizzare la struttura del cavo raffreddato a liquido all'interno del cavo è presente un tubo centrale adesso vedo se riesco ad abilitare il puntatore laser è presente un tubo centrale di mandata e due tubi laterali che rappresentano i due ritorni del liquido refrigerante il cavo ha inoltre un foglio di alluminio che riveste tutta la parte interna del cavo per garantire due benefici da un lato una omogenea distribuzione della temperatura durante il funzionamento e dall'altro ha anche un effetto di schermatura IMC nel cavo c'è inoltre una guaina interna di colore rosso che è stata fatta apposta per segnalare per esempio che l'isolamento esterno è stato compromesso e che quindi è necessario sostituire il cavo la guaina esterna invece è in TPEU quindi in poliuretano termoplastico e ha caratteristiche adeguate all'utilizzo all'aperto lì possiamo vedere la resistenza alle abrasioni la resistenza ai raggi UV un'ampia escursione di temperature di utilizzo e così via vorrei però farvi notare una cosa il design del cavo è stato curato in modo tale che ogni conduttore DC sia a diretto contatto con almeno due tubi di raffreddamento questo è necessario perché il raffreddamento indiretto come abbiamo visto è meno efficiente di quello diretto e quindi è importante massimizzare e sfruttare più superficie di contatto possibile per ottenere le massime prestazioni vediamo per ora in dettaglio come è fatto all'interno il nostro connettore raffreddato a liquido prima abbiamo visto qualche immagine di connettori anche di altri fornitori mi piacerebbe riuscire a farvi vedere che tipo di accorgimenti e che tipo di precisione viene considerata dai colleghi in Germania quando sviluppano questo tipo di prodotti iniziamo subito con la parte decisamente più importante che è lo scambiatore di calore che ha il compito di raffreddare i due contatti DC viene realizzato in un'unica unità di alluminio pressofuso ed è robusto e compatto all'interno di questo scambiatore di calore abbiamo l'inserto portacontatti DC questo inserto contiene una barra in rame in cui vengono saldati i conduttori utilizzando la tecnologia a ultrasuoni questo per ridurre al minimo possibile la resistenza di contatto e quindi in fase di utilizzo del cavo minimizzare quello che è il surriscaldamento la parte esterna dell'inserto portacontatti viene resinata per proteggere le parti elettriche da qualsiasi possibile infiltrazione la resina è questa parte grigia scura che vedete nella slide nella parte superiore del connettore è presente un accelerometro per andare a rilevare gli urti e poi vedremo a cosa serve mentre nella parte inferiore della custodia è presente un sensore di perdita di liquido questo per andare a rilevare se potenzialmente ci possono essere delle perdite di refrigerante sono presenti anche quattro sensori di temperatura PT1000 due inseriti all'interno dei terminali DC quindi molto vicini all'hot spot quindi al punto più caldo e due all'interno dei cavi di potenza ci sono chiaramente i tubi di raffreddamento una mandata e due ritorni che vengono connessi direttamente allo scambiatore di calore mediante delle fascette metalliche abbiamo lasciato per ultima la parte forse più importante del connettore nella parte che vedete lì sotto il cavo di terra è presente un circuito stampato che contiene un microprocessore che si fa carico di raccogliere ed elaborare le informazioni raccolte dai vari sensori presenti nel connettore tutte queste informazioni vengono elaborate memorizzate e trasferite alla stazione di ricarica mediante il bus CAN questa cosa è estremamente importante perché ci permette di raccogliere durante l'utilizzo durante la vita ciclo di vita del connettore tutta una serie di informazioni che ci permettono di capire come vengono sostanzialmente utilizzati i cavi in campo e questa informazione è tanto più importante per noi quanto lo è ancora di più forse per i nostri clienti che costruiscono le stazioni di ricarica e infatti questo elemento permette di elaborare e raccogliere informazioni che possono anche servire per la manutenzione preditiva e se il connettore dovesse danneggiarsi? nessun problema abbiamo pensato anche a questo sulla base delle stime basate su decine di migliaia di connettori prodotti in questi anni possiamo dire che statisticamente le parti più soggette a danneggiamento o rottura sono le parti più esposte quindi i contatti DC e le parti plastiche frontali queste parti possono essere facilmente sostituite al bisogno tra l'altro non c'è bisogno che ci sia del personale tecnico specializzato per fare questo tipo di attività è sufficiente istruire adeguatamente il gestore locale delle stazioni di ricarica fornirgli un tool di strumenti che poi sono quelli che vedete lì cioè un cacciavite dinamometrico e un inserto torx ovviamente adeguato al tipo di viti che ci sono sul connettore e la sostituzione di queste parti può essere fatta senza rimuovere il cavo dalla stazione di ricarica e senza che la stessa debba essere messa fuori servizio ovviamente osservando tutti i criteri di sicurezza del caso questo però va a tutto vantaggio della disponibilità della stazione di ricarica scommetto che molti di voi si chiederanno sì ma quali sono poi in sintesi le prestazioni che si riescono ad ottenere con questi cavi raffreddati a liquido adesso le vediamo come abbiamo visto per poter dichiarare in un modo puntuale le prestazioni di un cavo raffreddato a liquido è necessario indicare una serie di dati a corredo che definiscono il tipo di unità di raffreddamento e a che temperatura ambiente sono stati fatti i test e ovviamente il tipo di tecnologia utilizzata nel nostro caso abbinando il cavo di ricarica ad un'unità passiva e considerando una temperatura ambiente di 40 gradi centigradi possiamo considerare una corrente di ricarica nominale di 400 ampere che può salire fino a 500 ampere temporaneamente in boost mode sempre misurando la temperatura sui pin per quelli di voi che non sanno cosa significa boost mode possiamo dire che è una modalità di ricarica molto in voga in questi ultimi anni che considera la possibilità di superare la soglia di corrente nominale per cui il connettore è stato validato per un periodo limitato di tempo all'interno del quale viene monitorata costantemente la temperatura in modo tale da non superare quella famosa soglia dei 90 gradi che abbiamo visto prima questo permette di ottenere dei benefici soprattutto per quanto concerne la possibilità di erogare una quantità di energia più elevata ai pacchi batteria dei veicoli quando si fermano in ricarica qualora dovessimo abbinare il cavo ad un unità di raffreddamento attiva quindi a un chiller ipotizzando che la mandata del refrigerante possa essere a 15 gradi e utilizzando la stazione di ricarica a una temperatura ambiente di 40 gradi le prestazioni salirebbero sensibilmente quindi passeremmo da 400 a 500 ampere come corrente nominale e fino a 700 ampere come corrente in boost mode io con questa slide ho finito il mio intervento e lascio la parola a Massimo degli esposti che avrà modo di leggere le domande a cui cercherò possibilmente di rispondere grazie eccovi qua dunque una domanda di un ascoltatore che non si è qualificato è questa ma voi utilizzate varie soluzioni su domanda dei clienti oppure avete una soluzione standard abbiamo parlato di due tipi di unità di raffreddamento voi le producete entrambe allora no come Phoenix Contact ovviamente siamo interessati a proporre la nostra soluzione per quanto concerne il cavo di ricarica e il nostro cavo di ricarica HPC raffreddato a liquido si basa su una tecnologia di ricarica indiretta con refrigerante ad acqua e glicole per quanto riguarda invece le unità di raffreddamento abbiamo a catalogo un'unità di raffreddamento passiva che è proprio quella che avete visto nella slide ma in linea generale i clienti tendono a scegliere una unità di raffreddamento che meglio si sposa con le dimensioni e le caratteristiche della loro stazione di ricarica quindi da questo punto di vista se il cliente ce lo chiede offriamo la nostra ovviamente ma spesso e volentieri abbiamo visto che utilizzano una cooling unit come si dice in gergo selezionata da terze parti ma voi producete anche una cooling unit attiva no nel senso che in questo caso la casa madre ha collaborato con una società tedesca che si chiama IDAC che fornisce lo fa proprio di mestiere produce e fornisce sia unità di raffreddamento passive sia unità di raffreddamento attive quindi se c'è bisogno di questo tipo di supporto abbiamo i contatti anche a livello nazionale con questa società e quindi possiamo suggerire al cliente interessato la soluzione migliore per la sua applicazione Franco ci chiede ma il livello cioè ci hai raccontato dei dispositivi molto complessi il livello di affidabilità qual è? proprio per la natura del prodotto cioè per la necessità di dover gestire quantità di energia molto elevate con correnti soprattutto di ricarica molto elevate Phoenix Contact ha ritenuto opportuno realizzare questo prodotto assicurandosi il massimo livello di sicurezza possibile che passa per la tecnologia di raffreddamento che passa per aver riempito il connettore di sensori cosa che non è così usuale nel senso i sensori di temperatura sono obbligatori per normativa ma tutti gli altri sensori che abbiamo visto prima in realtà non lo sono quindi il fatto di aver integrato un microprocessore all'interno ci permette di monitorare istante per istante la situazione del cavo e di intervenire ancor prima che si possa verificare qualche problema ecco Paolo ci chiede una cosa io leggo testualmente perché non faccio fatica a capire dice il cambus elettricamente è collegato ai due cavi DC no assolutamente no è inserito all'interno del cavo multipolare sì ma con dei conduttori di segnale a parte con un'opportuna schermatura per evitare ovviamente interferenze ho una curiosità io in attesa che arrivi un'altra domanda che al momento non c'è io da utilizzatore ho un problema di solito al buio faccio una grandissima fatica a a a trovare l'innesto giusto del del connettore nella presa dell'auto ma visto la complessità di questa del connettore che ci hai descritto sarebbe impossibile metterci una luce la banalità però sai no è sempre utile avere anche suggerimenti anche di questo tipo al momento non c'è però prendo nota di questa cosa e trasferiremo questa informazione ai colleghi in Germania magari ci pensano per le prossime generazioni ormai per quelle che ci sono in campo sarà dura ma ah sì le prossime generazioni di automobilisti o di connettori di connettori di connettori assolutamente posso sperare di utilizzarla anch'io insomma se non sono i miei figli ma mi verrebbe da dire anche che più che sul connettore potenzialmente i led potrebbero esserci nella presa che c'è a bordo del veicolo che sarebbero anche più semplici da da gestire però è comodo scaricare tutto ma voi fate anche le prese esatto non stavo scaricando era solo un suggerimento più pratico diciamo senti a proposito di presa lato auto ti trasferisco un un dibattito che proprio sul nostro sito si è scatenato sul luogo in cui collocare la presa cioè meglio a destra meglio a sinistra meglio di fronte meglio posteriormente qualcuno ha detto ma perché non ne mettono due una da un lato e una dall'altra così a seconda delle situazioni dei garage o delle delle colonine pubbliche che siano lato strato o meno uno sceglie il connettore più adatto io capisco che il tema è per i costruttori d'auto ma dal tuo punto di vista ci sono dei problemi tecnici visto che voi le fornite queste prese no? Ah sì allora in qualità anche di fornitore di prese veicolo ai costruttori automotive se riusciste a portare avanti questo trend di montarne due per ogni veicolo noi saremo altro che contenti a parte le battute ho la sensazione che ci siano delle motivazioni principalmente basate su il contenimento del peso del veicolo da un lato il contenimento dei costi che probabilmente ha anche un'importanza maggiore per il costruttore automotive e quindi alla fine benché non sia tecnicamente impossibile montare due prese perché so per esempio che sugli autobus è una cosa che si fa abbastanza di sovente il fatto di avere due prese dalle due lati del veicolo credo che sui veicoli sulle auto tradizionali sia una cosa molto più complessa da gestire anche per meramente questioni dimensionali c'è poco spazio sicuramente nelle auto basate su piattaforme su vecchie piattaforme endotermiche magari auto di nuova progettazione ma l'incremento di costi sarebbe sensibile faccio fatica a valutarlo perché il nostro scopo di fornitura si limita la presa veicolo e al cablaggio che c'è all'interno non conosco i costi dei connettori che vanno poi montati sul bms piuttosto che sul caricabatterie posso immaginare che aumenti però la complessità anche di altre componenti all'interno del veicolo perché devono avere la possibilità di gestire il parallelo delle due prese quindi credo che non sia limitato solamente all'item presa veicolo ma sia un sovraccosto che include anche altri componenti una domanda di Claudio è si parla mi sembra anche voi abbiate parlato di una in una intervista che ci rilasciaste qualche tempo fa di possibili nuovi nuove stazioni di ricarica con potenze molto elevate vista la complessità già per ricaricare alle potenze attuali di questi cavi e di questi connettori cosa state studiando allora il mondo della mobilità elettrica è un mondo estremamente dinamico benché giovane o relativamente giovane e già prodotti che sono stati sviluppati 5-6 anni fa sono non voglio dire obsoleti ma già straconsolidati e c'è già pronta una nuova generazione di prodotti a ruota questo per dire che i costruttori automotive con cui siamo in contatto continuano a chiederci di incrementare le potenze proprio perché lato pacco batterie hanno la necessità di incrementare la quantità energetica delle batterie e hanno la possibilità di aumentare anche i profili di ricarica in termini di corrente dal nostro canto per cercare di rimanere al passo e essere sempre identificati come leader tecnologici stiamo già lavorando sulla seconda generazione dei cavi raffreddati a liquido quindi quello che vi abbiamo presentato oggi è lo stato dell'arte della nostra soluzione dei cavi raffreddati a liquido ma prossimamente sappiamo già che usciranno delle evoluzioni che saranno ulteriormente più prestazionali però non posso dirvi molto di più perché è ancora tutto top secret è ovvio Gianluca ti chiede una cosa alla quale probabilmente potrai rispondere senza violare segreti dice ciao Mauro quindi evidentemente ti conosce ci sai dire qualcosa su tecnologia di raffreddamento a due fasi liquido vapore o no personalmente no posso documentarmi in merito è una tecnologia che al momento so che almeno non sta utilizzando nessuno ma in questo settore come dicevo prima non si può mai dire perché è talmente dinamico che escono novità quasi tutti i giorni quindi mi documento e poi vedo di dare una risposta Andrea Marconi ti chiede quando ci sarà un unico connettore in tutti i paesi UE, USA e Asia penso mai penso mai perché potenzialmente ogni continente ogni nazione ha interesse affinché venga mantenuto lo status quo ho l'impressione che già con i connettori per la mobilità elettrica è stato fatto un gran lavoro di ottimizzazione perché se pensiamo alle spine prese che abbiamo in ambito domestico è molto molto peggio esatto uno che viaggia con un computer deve girare con sette otto connettori diversi quindi se non ci siamo arrivati lì penso che sia difficile arrivarsi con i connettori senti non ci sono altre domande quindi ormai sono le 18 e 56 qui a dove ce n'è una no no non è un'altra e quindi io direi di ringraziare tutti i partecipanti innanzitutto e ringraziare te per questa dissertazione molto tecna io ci ho capito poco però ho capito che può essere interessante soprattutto per gli addetti ai lavori grazie buon lavoro grazie mille a tutti buona serata ciao a tutti